Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la lezione di oggi andremo a vedere il cilindro. Nella scorsa lezione, che è stata anche la lezione introduttiva per queste unità sui solidi di rotazione, abbiamo visto in generale cosa sono i solidi di rotazione e come possono essere generati, ma poi abbiamo visto nel dettaglio come si possono generare i due solidi di rotazione principali, cioè quelli che andremo a studiare quest'anno, ovvero sia il cilindro e il cono. Chiaramente le prossime due lezioni saranno più che altro di applicazione, quindi andare a vedere quali saranno le formule legate alle aree delle superfici di cilindro e cono, le formule per il volume e vedere un po' problemi di tipo semplice, di tipo più complesso. Quindi al termine di questa lezione dovremmo essere in grado di applicare la formula diretta dell'area laterale totale di un cilindro, calcolare il volume di un cilindro dati il suo raggio di base e l'altezza, e infine, ma come al solito questo sarà un argomento che approfondiremo maggiormente in classe, risolvere problemi complessi legati all'area e al volume di un cilindro. Andiamo ora a rivedere la definizione di cilindro, quindi il cilindro è un solido di rotazione, in particolare il solido di rotazione è più semplice perché si può ottenere prendendo un qualsiasi rettangolo, come questo qui disegnato in figura, questo rettangolo arancione, e ruotandolo di 360 gradi intorno a un'asse passante per una delle sue dimensioni, per esempio in questo caso l'altezza di questo rettangolo, va bene? Quindi quando poi parliamo di una rotazione a 360 gradi, noi diciamo che è una rotazione completa. Ora, cosa succede? Che caratteristiche ha il cilindro che abbiamo così prodotto? Intanto andiamo a vedere la relazione tra il cilindro e le dimensioni del rettangolo che avevamo all'inizio. L'altezza del nostro rettangolo va a diventare l'altezza del nostro cilindro. La base invece del rettangolo va a costituire quello che sarà il raggio di base. Ora è chiaro che qui uno rischia anche di fare un po' di confusione tra termini che nel caso del rettangolo hanno un certo significato, ma in questo caso si sovrappongono l'altezza del rettangolo o l'altezza del cilindro. Invece notare come la parola base può avere due significati diversi. Nel caso del rettangolo indica questo lato, questa dimensione del rettangolo. Riferito al cilindro invece va a indicare una superficie, in particolare questo cerchio. E chiaramente allo stesso modo anche questo cerchio qui. Quindi è importante, se in un problema vi danno un rettangolo e da questo rettangolo attraverso una rotazione completa e andiamo a produrre un cilindro, noi sappiamo già che date le dimensioni del rettangolo possiamo avere subito le due informazioni fondamentali che ci serviranno per risolvere qualsiasi problema legato al cilindro, ovvero l'altezza del cilindro e il suo raggio di base, che indicheremo come al solito con la lettera R minuscolo. Per studiare le forme delle aree delle varie superfici del nostro cilindro ci converrà a fare, come già facevamo nel caso dei paralleli più rettangolo, del cubo e del prisma andare a vedere com'è fatto lo sviluppo piano. Ecco, lo sviluppo piano sarà costituito in primo luogo dalle due basi che, a differenza di quello che abbiamo visto nel caso dei prismi, quindi anche dei paralleli più rettangoli, quindi anche del cubo, non sono dei poligoni ma sono due cerchi, due cerchi congruenti di raggio R. Riguardo invece alla superficie laterale, qui vediamo invece un punto di contatto con quello che avevamo già visto nel caso dei prismi, ovvero che se io vado a aprire su un piano, quindi a sviluppare la superficie laterale di un cilindro, esso è di nuovo un rettangolo, un rettangolo che ha quali caratteristiche? Che ha come altezza l'altezza del nostro cilindro. E come base, quindi questa dimensione qui, cosa sarà uguale? Sarà uguale a questo bordo della nostra base, di questo cerchio, ma questo bordo non è altro che la lunghezza della circonferenza, quindi questa dimensione qui sarà pari alla circonferenza di base, visto che il raggio della circonferenza di base è R, la sua lunghezza sarà 2 per pi greco per R. Possiamo ora andare a vedere le formule. Allora, per l'area di base, chiaramente sarà l'area di un cerchio di raggio R, quindi ricordandoci quello che abbiamo già studiato in passato, l'area di base sarà data da pi greco per il raggio alla seconda. Ancora una volta vi ricordo che si tratta dell'area di una base, poi quindi quando andremo a fare l'area da superficie totale, dovremo sommare questi termini due volte. L'area laterale sarà invece l'area di questo rettangolo, quindi sarà questa dimensione qui, che abbiamo già visto essere 2 pi greco R, moltiplicata a questa dimensione. Notare che a questo punto sto cercando di omettere il segno di moltiplicazione. Il segno di moltiplicazione tra lettere in più delle volte non va ammesso. E' ancora chiaramente da ammettere quando avremo moltiplicazione tra numeri, perché a quel punto non si capisce se è un numero a più cifre o il prodotto di due numeri più piccoli. Andiamo a vedere l'area totale. Più volte nel corso del programma di geometria delle terze americi si pone il problema Ah, ma c'è bisogno di imparare un sacco di formule. E' vero sì, ma fino a un certo punto. Perché, come penso abbiate già visto, quando siamo passati dal parallelepipedo al cubo al prisma, alcune formule si vanno a ripetere. E questo è il caso anche del cilindro, perché se andiamo a vedere l'area totale del cilindro, questo sarà dato dall'area laterale più due volte l'area di base. E questa è la formula che avevamo già visto nel caso del parallelepipedo, l'avevamo già visto nel caso del prisma. Siamo pronti ora a affrontare un semplice problema legato all'area della soprafice totale. Leggiamolo insieme. Un cilindro è ottenuto dalla rotazione completa, quindi vi ricordo, 360 gradi, di un rettangolo di dimensioni pari a 3 cm e 7 cm intorno alla sua dimensione maggiore. Quindi ora andiamo a vedere di quale parla. Calcola l'area della superficie totale del cilindro. Ecco, notare come non mi sta dicendo qual è la base, qual è l'altezza, però mi sta dicendo che sto ruotando intorno alla dimensione maggiore, che quindi sarà 7 cm. Quindi io sceglierò questa come altezza del mio rettangolo di base e questa sarà la sua base, appunto. Come in ogni problema vado a disegnare la figura, indico già, giusto per facilitarmi il compito sulla figura, i due numeri di riferimento, quindi la base del rettangolo che vado a ruotare e l'altezza del rettangolo. Però so già che queste dimensioni vanno a corrispondere al raggio di base del cilindro e l'altezza del cilindro, quindi scrivo già che i dati sono r uguale a 3 cm, ac uguale a 7 cm. La domanda è, chiaramente, area totale, area superficiale uguale, appunto, in domanda. Riguardo allo svolgimento, quindi applichiamo esclusivamente formule dirette, abbiamo già visto prima che l'area di base è data da pi greco per il raggio alla seconda, il raggio è 3, quindi 3 alla seconda è più pi greco, 3 per 3 fa 9, quindi il risultato è 9 pi greco di centimetri quadrati, e attenzione, la mia raccomandazione è che quando abbiamo dei problemi che riguardano solo solidi di rotazione, quindi solo cilindri, solo coni, o solo combinazioni di questi due, il pi greco è meglio lasciarlo indicato, più preciso e più elegante, ok? Non ci complichiamo la vita con un sacco di decimali, quindi anche questo problema, come vedete, io lascio indicato il 9 pi greco centimetri quadrati, no? Lascio indicato il pi greco, come facevamo nei problemi legati alla circonferenza e al cerchio delle sue parti. Continuiamo, area laterale, quindi uguale a 2 per pi greco per raggio e per altezza, ovvero 2 per pi greco, in realtà, bene, un attimo messo da parte, vado a moltiplicare i vari numeri, quindi 3, il raggio di base è 7 all'altezza, 2 per 3 fa 6, 6 per 7 fa 42 pi greco centimetri quadrati, di nuovo il pi greco indicato. A questo punto, scrivo la formula dell'area totale, che è l'area laterale, 42 pi greco, più 2 volte, vi ricordo perché le basi sono 2, 2 volte 9 pi greco, 2 per 9 fa 18, e poi questi termini li posso sommare, perché? Perché sono un po' come dei monomi simili, no? Consideriamo il pi greco ovviamente come una lettera, questo è un numero per una lettera, più un altro numero diverso, per la stessa lettera, alla stessa potenza, quindi sono monomi simili, li posso sommare, e il risultato mi lascerà il pi greco inalterato e sarà semplicemente dato dalla somma dei, quelli che possiamo chiamare i coefficienti. ovvero 42 più 18 che fa 60 più greco centimetri quadrati, che è poi il risultato di questo semplice problema. È molto semplice poi vedere qual è la formula del volume del cilindro, esattamente come abbiamo fatto nei poliedri, come appunto i paralleli, il periodo rettangolo, il prisma, il cubo, si tratta di considerare la nostra base e immaginarla spostata, che va a spazzare questa lunga, lunghezza che è pari all'altezza del nostro cilindro. Quindi il volume viene dato da area di base per altezza. E di nuovo, non c'è bisogno di imparare così tante formule, perché molte formule poi si ripetono. Questa è la stessa formula che avevamo già visto per il prisma, avevamo già visto per il parallipedo rettangolo. Da un certo punto di vista è anche la stessa formula del cubo, ma lì si sfrutta il fatto che tutti gli spigoli hanno la stessa lunghezza. Chiudiamo questo video con un problema un pochino più avanzato, cioè un problema in cui ci sarà bisogno di un po' di formule inverse, e che andiamo a leggere insieme. L'area della superficie laterale di un cilindro è 72 pi greco centimetri quadrati, notare il pi greco indicato già qui, sapendo che il raggio di base è lungo 4 centimetri, calcola il volume del cilindro. Quindi, di nuovo, figura, dati, area laterale, raggio, domanda, voglio sapere il volume, e svolgimenti. Questi sono di quei casi in cui possiamo procedere al ritroso, cioè partire dall'arrivo, da quello che noi vogliamo ottenere, ovvero il volume, e vedere come si ottengono i vari pezzi. Ora il volume è un'unica forma, no, area di base per altezza. Allora mi domando, conosco l'area di base? No. Allora scrivo la forma dell'area di base, che è pi greco per r alla seconda. Il raggio lo conosco? Sì, allora posso trovare l'area di base. r alla seconda sarebbe 4 alla seconda, l'altra alla seconda fa 16, ecco fatto l'area di base. 16 pi greco, notare di nuovo il pi greco indicato, 16 pi greco centimetri quadrati, che già vado a scrivere qui nella mia forma del volume. Il secondo pezzo che mi serve per completare il problema è trovare l'altezza. A questo punto vado a pensare quali sono le formule che contengono l'altezza. Una è ovviamente quella del volume, ma è già qui, quindi non la posso usare. Un'altra formula è quella relativa all'area da superficie laterale, che invece ho. E quindi cosa faccio? Faccio la formula inversa, altezza uguale, area laterale diviso, circonferenza di base, ovvero 2 per pi greco per il raggio. Ora sostituisco i numeri che ho dal problema, l'area laterale è 72 pi greco, diviso il raggio è 4, quindi 2 per 4 fa 8 pi greco. E qui a questo punto ho pi greco al numeratore, ho pi greco al denominatore, applico la probabilità invariantiva, le posso dividere tutte e due per pi greco, il risultato è 1, e mi rimane 72 diviso 8, che fa 9, 9 centimetri all'altezza di questo cilindro. A questo punto ho tutti gli elementi che mi servono per finire il problema, quindi 16 pi greco, area di base, per 9 dell'altezza, mi fa 16 per 9, 144 pi greco centimetri cubici. Nel corso della prossima lezione vedremo come le formule della piramide avranno invece una maggiore somiglianza, scusatemi, le formule del cono, appunto, avranno una maggiore somiglianza con le formule che già incontramo a suo tempo per la piramide. Ma per oggi è tutto, arrivederci da Mr. Boscherini.